Sabrina, vieni con me, prendi il microfono. Loredana, vieni con me, prendi il microfono. Andiamo all'avventura. Facciamo boys, boys, boys. Potremmo un po' medley anche di un pezzo tuo, una cosa insieme, vai. Ok, allora cominciamo da Loredana Bertone. Wow, metti in mezzo, vai. Che frio. E noi ti seguiamo e tu guida. Hey! Ti ho messo senza vento. Mi parlo addosso e mi inverto. Un'autostrada per me. Dove non puoi fermare? Quello che scoppia dentro, per un artista è un fatto normale. Oh, vai, vai. E allora cos'è? Che mi fa correre, lo so di te. Che lascia dietro tutto quel che ho. Benvenute! Ma se non mi conviene, lavoro insieme a te sto bene. E allora cos'è? Che prende a calci tutti i miei perché? Che mi fa dire ancora che ci sto. Anche se non mi conviene. Ah! E allora cos'è? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti